e come la vorrei una ragazzina per me e voi ve l'avete io svegli tu non fai sempre che cosa... solo se lo vincere se l'amore come svegli e dai ma io non voli... come ci trovo due mie? io stai dicendo, come ci hai fatto una faccola e tu non mi mangia un corno se lo and�iti smettiamo di rilasciare poi non mi ciao a tutti e non sembra di tutti ripeto, più stessa. non dò lì stai dicendo che lo vincere Ciao, ciao, ciao. Andiamo qui, ciao, ciao. Andiamo al lavoro, posto. Andiamo a portare, dove? Ciao, ciao, ciao. Ma non è che ci fanno trovare una zetta qui, siamo ancora accompagnati qui. Però adesso te lo accorto. La nostra amica, ma ne abbiamo tante, Alberta, Carla, Matteucci, non so, dovrei fare un giro di chiamate. Sì. Va bene. Ma quel giro di telefonato con la parola, bella che era Matteucci, eh, che be' buona, tanto con la prodigia, te lo accorto. Sì, te lo accorto. Matteucci è la più fashion, la più delicata, ha avuto 18 ragazzi in un mese e mezzo. Ma che dice, ha avuto 19? Il 19 era gay. Va bene, Matteucci, dai, anche se con i 18 ragazzi non ha mai concluso niente. Tutta la vuole, non tu che sappi. Chi cazzo, è proprio all'ordine. Fa puntare un suotto, io. Ci sei, me. Tutto il posto, eh. Ti chiamo, ti chiamo. Ti chiamo, ti chiamo. Pronto, Matteucci? Ciao, amore mio. Ci sarebbe comunque un ragazzo interessato a te. Ti dovrei fare quindi questa proposta. Ma dove siete? Ah, sì, sei con tutte le tue amiche in giro. Va bene, stiamo arrivando. Vi raggiungiamo fra poco. sull'ito. Erano esaretto, il bello fighetto di tutta la città. Quando le passava la gente rideva per la curiosità Una 128 doppia marmittà che ero di tutti i pori e ripassata risulta Riccio, che cazzo c'è fatto? E' un po' che cazzo 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 Fino a ieri è stato solo una pazzia Ma io volevo essere a casa, ma giù che mi sono venuti per Matteucci L'ennesimo di Matteucci Ma tu lo sai come Matteucci? Infatti si, tutti che la vogliono ma nessuno se la prende Ma che sono figli di Matteucci, ma che ne vado di Matteucci Va bene, basta ragazzi, siamo venuti qui per un motivo specifico Dobbiamo far conoscere Matteucci e Pierluigi, Pierluigi vieni E' la mia Matteucci però, non piace Dai venite su, allora Pierluigi, Matteucci, Matteucci Cioè, ma mi consenta, no, ma Dì, lui Può stare con una ragazza Parlando un po' che tamarri E' un po' amici apportunati Stavo dicendo Lui ha bisogno A differenza nostra che siamo ragazze Quanto tamarri, no? Guarda qui, guarda un bacio Cioè, voglio dire, chi ne vuolì? Saccorcia la... Per lui ci vorrebbe una ragazza Grezza tanto quanto noi Capito? Cioè, quindi Io ho già in mente una ragazza Che per lui potrebbe far bene E che dovrebbe essere questa tal dunque Con questa ragazza? Io stai cercando di aiutare Con questa incrocorso Prima di dare la miseria E' questa caglione, no? Che è una madre E' una macchina E' una cucchia 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 E poi che, beh Come si chiama il true locale Due Severi Che era Viche come i nostri cagli Naturalmente Ma bel A Tamarri Ehm Prima volta È Lui Ma il Domenico Yes Vede Ma la prossima domenica 11 La prossima domenica Si, po' la domenica Ed ora questi Ar inacciudono A portaglio E' unVEN bringing In portac niños Si, abbiamo raggiunto I mogli Oggi Sicuramente Ma un anticristo A mattine Accadono Che Lui Sì, adesso! Tanto una ciò. Vavo Camera Comぁ!!! Grazie a tutti!!! Grazie a tutti!! Grazie a tutti!! Come rispondete a me molto, sono tutti. Un legce! Alfredo, no, no, non sono al porco giochi, no, sono a Corigliano, si lo so che eravamo rimasti per oggi, però non ci sono, ho avuto un bici improvviso, e dobbiamo fare un altro giorno, si, ma è venuto che ti ingazzi, che te la prendi con me, e si, facciamo domani, facciamo, no, sono a Corigliano, si, 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 mi hanno chiamato, una volta devo fare, e dopo devo scendere a, facciamo il video, ma guarda chissà, ma lo facciamo questo video? Sì, e, sicuro che non ho la reflex, Maria, mi dai la reflex, che faccio il video un attimo, si, tieni, grazie, allora, siamo qui, ciao Maria, grazie, grazie Maria, grazie, grazie, professionalissima, allora, facciamo il video a Martina, al mio 3, ok, e metto a registrare al 3, 1, 2, 3, vai! Beh, cara Martina, mi hanno fottuto, mi hanno fregato questi stronzi, comunque, adesso come sono qui presente, ti sto facendo il video, almeno due secondi hai fatto, e ti voglio bene, è un vecchio adoro presto da Fondoni, terranova, e ci vediamo presto, vai! 3, 2, 1, 1, 2, 1, vai! Cioè, ieri sera è stato cretacolare, qualcosa di meraviglioso, mi ha detto a te? Eh sì, e tu? Anche com'è andata? È male, è male! Come mai? Vai! Ieri sera è stato fantastico, credimi, qualcosa di meraviglioso, mi ha detto a te? Eh sì, lo sai tu? Com'è andata? È male! Come mai? Meglio non ballare, come mai? Come mai? 3, 2, 1, vai! Non posso guardare in base, giusto? Non posso guardare! Non mi viene, non mi viene! Non sto ridendo? Vai, vai, vai! Vai, Marianne! Silenzio, 3, 2, 1, 3, 2, 1, vai! Ciao, sono Giuseppe! Buongiorno! 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 Ciao! Kau, Kup! Braviglio! Dalla Viglio! Dalla Viglio! Dalla Viglio! Dalla Viglio! Grazie a tutti